Tre grandi esclusi delle elezioni amministrative di Pescara, Gianni Teodoro e Riccardo Padovano. Ma nonostante la delusione, proseguiranno nella politica e hanno ribadito in ciò in cui hanno da sempre creduto. In primis l'uno la riqualificazione delle periferie, l'altro il mare. Li abbiamo ascoltati. Gianni Teodoro, 29 anni di politica, ma ora, oggi, non essere eletto, un po' di delusione c'è? No, guardi, non è una delusione, perché io in campagna elettorale già avevo colto, ma come anche negli anni precedenti, questa volontà da parte del cittadino elettore di valutare con molta più attenzione quello che sono le indicazioni dei leader nazionali. E credo che tutto sommato ogni volta scommettono, credono in queste promesse, perché promesse sono e poi si rivelano di fatto, per una buona parte, per la gran parte, semplici e promesse. Tutto questo ha creato un'illusione, come dicevo prima. Teodoro però ha detto che continuerò a fare politica. Ma certamente sì, io adesso sono libero dal peso della responsabilità del governo. Il sindaco Alessandri ha ritenuto, quando mi ha richiamato, per dargli una mano, di assegnarmi deleghe numerose e molto pesanti ed importanti. Io l'ho portato avanti con onore, con impegno. Oggi lascio lo scettro, voglio dire, a chi verrà dopo di me. Io mi occuperò esclusivamente di politica per la mia città. Siamo già pronti con i nostri candidati per iniziare a costruire questo nuovo percorso già per i prossimi appuntamenti elettorali. Riccardo Padovano, che è anche presidente della Sibba, cofcommercio che raccoglie diversi, moltissimi ballenatori. Allora, la delusione elettorale ci poteva stare perché nella vita non è che si può vivere soltanto di politica. La politica è una passione, io ci sto dall'85. Io dico che i progetti non si devono abbandonare, non abbandonerò il porto di Pescara, non abbandono il progetto Miglio Zero, la riqualificazione delle banchine, non abbandono la mia agenda di stabilimento di Baniere, ma anche gli altri cittadini. Voglio riportare e darò questo contributo al Comune di Pescara con l'Ali Scafo quest'anno e ci stavo quasi per riuscire, ma ci riuscirò. Come riuscirò? A far togliere quei 200.000 metri cubi di materiale che sono depositati sulla vasca di colmata. Lì farò le battaglie vere, mi vado ad incatenare, perché quel materiale è utile per i comuni costieri, per il riparcimento. Un mare libero da plastica grazie ai pescherecci. Grazie a un mio parente, Guerino De Masis, che con la barca Nicola Padre è già iniziato a fare questa raccolta. Raccoglie la plastica che pesca e lo viene a depositare. Attraverso questo progetto io voglio fare un progetto. Cioè voglio chiedere, l'ho chiesto già all'assessore Mauro Febbo che è d'accordissimo, l'ho detto anche al ministro Marco Centinaio, un progetto che vede la collaborazione dei motopescherecci, degli stabilimenti balneari a raccogliere la plastica sia in mare che sulle spiagge.